Stefano Larosa, oggi qui a Castelbuono una grandissima prestazione, ottavo posto e ancora una volta primo degli italiani. Sei proprio in forma in questo periodo? Sì, è una bella soddisfazione qui a Castelbuono, un ottavo posto dove davanti c'era gente veramente fortissima. Oggi stavo bene, mi volevo anche un po' sfogare dopo aver provato a fare il minimo per i mondiali sui 5.000 che non ci sono riuscito. So di stare bene, non sono stato molto fortunato, non ho trovato gare molto adatte, quindi è un po' svanito il mio sogno dei mondiali. Oggi qui a Castelbuono sono partito un po' tranquillo perché so che la gara è molto dura, avevo già corso quattro anni fa e la salita ogni giro si fa sentire. Quindi sono partito un po' con cautela e gli ultimi giri correvo veramente bene e ho fatto anche un bel finale. Sicuramente è un segnale di grossa forma, ci sono dei rammarichi soprattutto perché non hai trovato la gara adatta per i 5.000, però si potrebbero aprire altre prospettive per le prossime settimane? Sì, sicuramente continuerò ad allenarmi, a preparare i 5.000 perché parteciperò alle università a metà agosto e quindi vorrò stare al top della forma perché comunque è un evento importante dove posso fare un gran tempo sui 5.000. E poi ci diamo appuntamento al 2012 e di nuovo all'assalto del minimo, questa volta olimpico. Sì, sicuramente proverò sempre sulla distanza di 5.000, non so se farò, proverò anche a inizio stagione del 2012 10.000 e continuerò sempre in pista perché è dove veramente mi appassiona e dove riesco a fare dei buoni risultati.